Ma Rizzo ha ragione, io aggiungo che la decadenza della scuola è cominciata quando è stata accantonata la riforma gentile. Tutte le riforme successive non hanno fatto che peggiorare la situazione, questo però non è una mia opinione ma è una constatazione. Quindi penso che in effetti quando qualcuno se la prendeva con l'onorevole Azzolina era perché non conosce la problematica. Azzolina ha cercato di fare quello che poteva, ha trovato un disastro e non poteva risolverlo in tre mesi lei. Quindi gli attacchi che le sono stati fatti erano tutti gratuiti e mi dispiace che non sia più lei al ministero. Ieri ho avuto anche Fioramonti collegato dal Sudafrica che si era dipesso perché non c'erano i soldi per dire insomma che la storia è lunga. Senta Gismondi ma lei...